Oggi siamo a Milano in compagnia di una squadra di calcio per una nuova challenge epica. I giovani calciatori si sfideranno in una gara ai rigori ad eliminazione diretta. Chi segna va avanti, chi sbaglia è eliminato. E per ogni rigore che riusciranno a segnare guadagneranno 10 euro da aggiungere al monte premi finale. Guardate il video fino alla fine per scoprire quanti soldi guadagnerà il campione e commentate ora quanti rigori avreste segnato voi. Buona visione! Siete pronti? Sì! Iniziamo! Iniziamo! Il nostro portiere di oggi sarà Gimatador, ovvero XXL! XXL! Vi ricordiamo ragazzi che il format del video è che ogni rigore che i ragazzi segneranno guadagneranno 10 euro. Ci sarà solo vincitore, che sarà l'ultimo a sbagliare il rigore, che si porterà a casa la somma totale dei round. Quindi meno round fanno, più noi risparmiamo. Sei stato il primo, il più coraggioso ruolo. Sei centrocampista di sensore. Sei campista di sensore, vuol dire che i piedi buoni, ma sai anche difendere bene e chiudere. Vede, subito! Sì! Vede! Vede! Vede legge tutte il Giorgione ragazzi. Prima che continui il video però vogliamo darvi una notizia bomba, ovvero che su Foodworkshop sono tornati i Foodwork Christmas Pack. Il regalo di Natale perfetto caro Gunter, quest'anno tre varianti disponibili per tutti gli appassionati di calcio e calcio freestyle. E chiunque ordinerà un Christmas Pack riceverà un video saluto personalizzato gratis con il proprio nome. Inoltre i 30 più fortunati riceveranno anche una videochiamata da me e Harry. Io il mio Christmas Pack sono giornata su Foodworkshop, l'ho scelto e ho già avuto anche il tuo video saluto. Adesso tocca a voi. Ragazzi ci sono pochi pezzi disponibili, quindi se volete anche voi un Christmas Pack a Natale andate ora su www.foodwork.shop e ditelo ovviamente ai vostri genitori o nella letterina di Babbo Natale. Ora torniamo al video. Non si arriva, non si arriva, non si arriva, non si arriva Giorgione. Cazioni. Bella, bella, bella. Fuori, fuori. Male, male. Bello. Bello, bello, bello. Bello. Mamma mia. Vivo. Vai, giacera. Vieni da chi è giù. Bello. Allora. Ecc. Questo chi lo diamo come gol? A te o a Giorgione? Eh, a me, a me. A te, ok. Buono, sei andato avanti. Giorgione. 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 E' un'ottima notizia, avete superato il primo livello, adesso avete un budget di 10 euro. Giorgione. 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 Oh, mamma mia, non sei neanche mostro, bloccato. Toccata, toccata, ma abbastanza. Traverso, traverso. Salve. Giorgione. Giorgione. Oh, ti sei sfondato le gambe. Peccato che eri sotto. Giorgione. Bello, bello. Mamma mia, mamma mia. Giorgione. Oh, come... Oh, bello veramente, ma non abbastanza per andare avanti. Oh, bello. Giorgione. Non hai visto che non sbagli. Sì, non hai visto che non sbagli. Sì, non hai visto che non sbagli. Sì, non hai visto che non sbagli. Che fai le maghe. Bello. Vedi così, tof. Oh, bello. Alla Giorginio. Alla Giorginio. Allora. Passare una maghe. Che già stanco? No, zio. Ah, ok, non ti capisco. Non sto il mancino. Non sto il mancino. Sì, vai! Go! Sì! Quella rosa! Sì! 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 Il portiere è stanco, il portiere è lento, il portiere non ce la fa più. Dimmi due, punta il dito su due che elimini subito, è meno importante. Uno, due. Sì! Non vi sente, non vi sente! E' lo gelo! E' lo gelo! Bravo! Bravo! Mamma! Bravo! Vendo male che con i piedi è una pippa al Giorgione! Ragazzi siete rimasti in sei, mi aspettavo sinceramente che andavate più avanti, ma la pressione di videocamera fa tante vittime. Concentrati, sono bene. Il nostro obiettivo è che ce n'è uno o due che continuano a sfidarsi di macchine, facendo crescere vertigionalmente il budget, ma vediamo cosa succede. Sì! Parte! Rete! Ed è giù tanta! L'arcere! Posso solo toccarla! Posso solo toccarla! Non è ancora finito! Nooo! Un attimo! Ohhhh! Questa valla! Uh! Ohhhhh! Eh beccato! È liberato! Benissimo! Benissimo! Buon lavoro! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Quattro! E ci mettete? Te l'avevo detto! Bravissimi ragazzi, siete rimasti in quattro, ora inizia ad essere abbastanza seria perché tra di voi quattro c'è il vincitore, potrebbe arrivare anche a 200-300 euro È un bel rigore questo Bello Bravissimo Madonna Ora siete così pochi che riesco a prendermi tutti, siamo rimasti in tre ragazzi, tra di voi tre c'è un vincitore, secondo te, tra loro due, chi è il possibilità di vincere? Lui Vincitore 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 Bravissimo Secondo me potrebbe arrivare anche ai 100-200 euro, dipende se riesci a doppiare Vincitore 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 Vincitore